SEMPLICITÀ, GENERALITÀ, FLESSIBILITÀ, SICUREZZA SEMPLICITÀ, GENERALITÀ, FLESSIBILITÀ, SICUREZZA SONO I PRINCIPI GUIDA DEL PIANO DI SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME E DELLE PROCEDURE DI PREVENZIONE DELL'INCENDI PRESENTATO QUESTA MATTINA AL VIMINARE DAL MINISTRO DELL'INTERNO ANGELINO ALFANO E DAL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE ALBERTO DI PACE Il documento semplifica il quadro della regolamentazione tecnica delle attività produttive soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco allineandolo con la semplificazione dei procedimenti amministrativi operata nel 2011 introduce una nuova metodologia puntando a ridurre i tempi di avvio delle attività fatta salvo alla sicurezza Il grosso progresso che è nel documento che tra un minuto verrà illustrato dal direttore centrale della prevenzione di incendi è nel modificare completamente l'approccio culturale alla prevenzione di incendi da normativa prescrittiva, rigida, uguale, trasversale per tante attività e quindi inapplicabile specialmente per le attività esistenti si passa a un sistema prestazionale in pratica, in parole povere, quello che ci interessa è il risultato Nello sviluppo del piano, messo a punto con la collaborazione di 60 giovani esperti del Corpo Nazionale sono stati coinvolti i principali stakeholders, cioè gli imprenditori e i professionisti che hanno indicato le principali criticità del sistema attuale Semplificare è una parola molto abusata adesso ma che cosa vuol dire davvero? Semplificare in termini di chi fa le norme e di chi le norme poi le subisce Semplificare vuol dire avere intanto procedure più semplici cioè i procedimenti devono essere con meno carte e più sicurezza Avere riduzione poi invece degli oneri regolatori vuol dire avere regole tecniche più chiare Il tutto con un notevole risparmio per le imprese grazie all'abbattimento dei costi burocratici stimato al regime di circa il 10% Il piano, che sarà tradotto in un decreto è un insieme snello di previsioni e moduli adattabili alle diverse esigenze di sicurezza a tutela delle persone, dell'ambiente e dei beni e all'insegna della semplificazione e della partecipazione Devo innanzitutto dire che la importanza della giornata di oggi sta proprio nel valore di esempio per tutte le pubbliche amministrazioni italiane del lavoro che abbiamo fatto con i Vigili del Fuoco I Vigili del Fuoco rappresentano oggi l'esempio di un comparto dello Stato di un organismo dello Stato che cede il passo in termini di protagonismo ad un pezzo importante della società civile che sono i professionisti italiani I professionisti italiani, dopo che tutto quello che noi abbiamo illustrato entrerà in funzione, cioè dall'estate saranno più protagonisti Grazie! 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 Grazie!